Massimo Giove, pilota dell'elisoccorso di Corso Marche, cosa vuol dire essere un pilota di un elisoccorso e dover soccorrere tanta gente? Vuol dire prestare il proprio servizio per la collettività, dando la propria presenza in base e restando pronti a partire in caso arrivi una chiamata e quindi andare sul luogo dell'intervento trasportando l'equipe sanitaria per prestare soccorso a chi ne ha necessità. Quanti anni è che fai questo lavoro? Io volo da 35 anni, ma prima ho volato molto tempo come militare e da alcuni anni sono in campo civile come pilota dell'elisoccorso. Per un volo in notturna, quale difficoltà ci sono rispetto a un volo di giorno? Beh, ovviamente le difficoltà sono maggiori perché non vediamo come di giorno, però abbiamo tutta una serie di campi sportivi, elisoperfici, attrezzati per ricevere l'arrivo dell'elisoccorso e le raggiungiamo seguendo delle particolari procedure che ci fanno raggiungere in fretta e in sicurezza tutti i siti. Le vostre dotazioni possono comunque, sono dotazioni a raggi infrarossi? Abbiamo ultimamente acquisito i visori notturni che ovviamente ci danno una grossa mano e sono sensibili sia allo specchio della luce visibile che dell'infrarosso. Franco Musso, questa sera per qua solo è una serata importante, avete finalmente inaugurato questa pista che speriamo che serva soltanto per dimostrazione o come stasera per inaugurazione di non farla mai utilizzare? Allora, intanto grazie di essere venuti, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a tutti gli enti, protezione civile, vigili del fuoco, croce rossa e altri che adesso sicuramente dimentico. Sicuramente è più di un anno che ci stiamo dietro a questa cosa perché ci teniamo particolarmente perché è una sicurezza per il territorio. Non avendo l'ospedale vicinissimo perché il pronto soccorso notturno è Ciriè, sicuramente un atterraggio di questo tipo potrebbe salvare delle vite umane. Sappiamo che in 10 minuti e un quarto d'ora siamo al CTO di Torino e quindi è una cosa importante specialmente per i comuni di qua solo e per la montagna. Noi ringraziamo tutti quelli che hanno fatto delle cose per farci arrivare qua perché ci sono stati dei volontari, ci sono stati dei tecnici, ci sono tutti i dipendenti del comune, l'assessore, vice sindaco, l'unione dei comuni che ci ha dato una mano per cercare di ottenere questa cosa. Ci siamo riusciti, per noi è un vanto e un onore riuscire a ottenere una cosa di questo genere qua solo. Quanto è durato l'Inter per riuscire ad arrivare a questa serata? Intanto siamo partiti con più zone, noi ci tenevamo e poi non siamo riusciti per delle questioni tecniche a fare due campi d'atterraggio sui due campi da pallone, uno a San Nicolau e uno a San Pietro. Poi c'è stata una serie di problemi perché il campo d'atterraggio deve essere abbastanza lungo perché hanno un angolo d'entrata e un angolo d'uscita e quindi non abbiamo potuto omologare il San Nicolau. Chiaramente c'è tutta una serie di problemini tipo l'illuminazione che in questo caso ce l'abbiamo, deve accendersi in una certa maniera, cartellonistica, deve essere accessibile con le autombulanze. Ci sono dei lucchetti particolari per cui di notte il problema è che quando succede di notte non è che siamo tutti qua come adesso, quindi ci va comunque tutta una sceneggiata con la croce rossa, l'autombulanza eccetera che deve poter venire chiunque, riuscire ad aprire e accendere le luci. Parlava di illuminazione, avete dovuto fare qualche lavoro per riamodellamento dei pali delle luci? No, no, questa era già un'illuminazione ad hoc su un campo da pallone e quindi non abbiamo avuto problemi. Assessore, Assessore Protezione Civile. Ma è senz'altro una cosa molto importante, senz'altro per qua solo, ma direi per tutta l'Unione. Come Unione Montana stiamo cercando di allestire in tutti i comuni, chiaramente nel corso del tempo, almeno un'area di atterraggio elicottero, un'area di atterraggio elisoccorso proprio per garantire una prontezza di intervento in caso di necessità. E come diceva giustamente prima, speriamo di non averne mai necessità, ma comunque se c'è, riusciamo a garantire ai nostri cittadini la vicinanza, se non territorialmente, almeno con i tempi, con gli ospedali di zona. Questa pista di atterraggio a quali comuni andrà a servire? Ma, sent'altro i comuni che ci sono qui intorno, non dimentichiamo che Corio ha già allestito una pista di atterraggio e appunto a mano mano, quindi penso a breve a Lanzo, a breve anche ai comuni dell'Alta Valle, la prossima settimana ci sarà il volo di prova della pista di Chialamberto, che è la prima che parte nella parte alta dell'Unione Montana e potrà servire chiaramente i comuni qua, quindi penso a Monastero, penso anche a Lanzo, la parte alta di Lanzo, cosa è la parte di Corio che magari dà verso Coassolo. Quindi senz'altro è molto importante perché poi è baricentrico anche rispetto al territorio vasto che ha il comune di Coassolo. Grazie.